Non so se avete presente un po' come lo youtuber medio registra i suoi video Nel senso di outfit Sopra ha una normalissima maglia Sotto di solito è In base anche alle circostanze e alle stagioni In pigiama, in mutande oppure direttamente nudo E quindi quest'oggi visto che dovrò andare a usare l'Oculus Quest come sono io In pigiama! Ciao a tutti ragazzi come ho finito lì che vi parla Quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video Perché appunto da come avete letto dal titolo Siamo qua quest'oggi in questo nuovo video Perché appunto andremo Nuovamente a usufruire di questo fantastico coso bellissimo Questo tostapane bellissimo Ce lo dovremo andare a mettere in testa E appunto dovremo andare a giocare a Fortnite O meglio a uno pseudo Fortnite Perché Fortnite in realtà virtuale non esiste Prima di cominciare signori avete già notato Che ovviamente mi sono tagliato i capelli Quindi subito un bel like E al raggiungimento di mi raccomando 600 mi piace Voglio 600 like per un prossimo video Con il visore della realtà virtuale E oggi signori anche il grande giorno Sanno dei piedi reveal Per chi fosse felice magari oggi potete riuscire a vedere i miei piedi Se foste curiosi Siamo qui quindi signori Su Population One VR Che appunto sarebbe Fortnite in VR Detto in parole molto povere Io non ci ho mai giocato a questo gioco Ho solo fatto il tutorial E sembra una cosa molto figa E siamo questo tizio sexy Con le mani E questo capotto bellissimo blu Allora le modalità di gioco sono Squad Bot battle Bot battle solo Combat trial Tutorial E basta fine Noi ovviamente andremo a giocare in squadra Io non ho mai giocato con nessuno Quindi spero di trovare gente Che sia disposta a perdere Trovando uno scarso in squadra come me Mi stavo dimenticando delle cuffiette Quindi avrete sentito un eco della madonna finora Ma non importa Hello Hello Hi man This is actually my first time playing I'm a noob I think Oh shit Everybody was new Nice I am italian I am polonais Do you like pizza? Yes, very Eh, pizza is very good Do you like pierogi or bigos? Eh, I don't know what they are Because you didn't taste If you taste you will like that Come vedete possiamo anche buildare La cosa è molto figa E soprattutto possiamo arrampicarci sui muri E possiamo tipo fare bungee jumping Tra un muro all'altro Per il momento sembra una roba assurda E anche le build La grafica delle build Tanta roba devo dire Guardate quest'arma Quanto È bella Ok, anche l'animazione per ricaricare Vi devo dire che è un sacco bella Aspetta, voglio buildare Voglio buildare Com'è che si builda? Così si builda Building time Scala muro piramide Scala muro piramide Aspetta, aspetta, aspetta Builda qui sopra Vai, arrampicati Arampicati Fai fortino, fortino, fortino tattico Mamma mia che potenza Guarda qua Scala muro piramide boxato Basta buildare Bastardo di merda E adesso? Come Ah ok Si possono eliminare le build Mi sentivo incastrato Oh, attenzione signori Si starta Fantastico Si starta Non so in quanti siamo Non so cosa devo fare soprattutto Non so in quanti siamo Non so in quanti siamo Non so in quanti siamo Ehm Wait, ok Sì, vedo Oh, ok Mi too, non sto capendo niente So solo che posso arrampicarmi sui muri Aspetta, c'è una lattina I have some shield and a backpack Very nice Ok, dovremmo anche essere Aspetta, ma questa cosa è bellissima Preso danno da caduta, non è stato bello Oh, i planes, ok, yeah Ok, oh, c'è un cecchino Questo è figo, aspetta, aspetta, aspetta C'è un player laggiù, provo a itarlo No Abbiamo di SMG che è meglio forse Oh, abbiamo una lattina di Coca-Cola Cioè aspetta, cosa fa questa? C'è gente C'è gente, ci sono players No, niente Direi adesso di andare a provare Una solo contro i bot che è meglio Perché la partita di prima non è andata proprio benissimo E giocare con altra gente Non mi sembra una grande opzione Hello? Ok, questi qui sono bot Salve, signor bot È sparito di colpo Mi aspetti, signor bot Non scappi Un attimo Intanto è volato nello spazio Ma va bene Aspetti che la prendo anch'io la navicella Vai, ready Set Let's go Dov'è andato? Ma sono da solo, mi ha messo un pirla Vai Ci lanciamo con Dio santo Ma io ho il collo sulle palle Siamo atterrati E la cosa è molto bella, devo dire Già, siamo vivi Non so neanche come Oh, c'è un'arma qua Attenzione, c'è un SMG viola E abbiamo uno shieldone Abbiamo un chug chug È fantastico C'è gente Dammi la lattina Ricarica l'arma Veloce, carica Oh, salve Spera, spera, spera No, una, una Ok, uh, ho fatto una kill Non so neanche io come Ma ho fatto una kill Salve Uh, ho fatto due kill Ma sono fortissimo Ok, sarà che sono bot Ma di questi sono dettagli C'è una banana Perché c'è una banana qui? Aspetti Oh, prendi la banana Cosa devo farci con la banana? Ma devo No, ma è bellissimo Calabria time Fammi, fammi mangiare la banana Oh, cioè la banana in teoria ti dà vita quindi Ma che figata Calabria life be life Ok, aspetta, aspetta, aspetta Devo ricaricare un attimo La rala lì Ah, 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 ah Madonna che potenza che ho Ho finito i colpi però E la cosa non è il massimo Perché non ho altre armi Aspetta Prendi la lattina di soda di prima Vai Drinkati tutta la lattina Madonna che bello Queste le animazioni più belle della storia Devo trovare dei colpi E perché senza colpi posso prenderli a pugni e non avere Cioè ho anche il coltello in teoria Albania time Posso fare così Posso prenderli a coltellate Ah, ah, ah Chief Sharro porso di merda No, c'è gente lì C'è gente lì Corri via, corri via, corri via C'è gente Deja vu I just been in this place before Posso arrampicarmi io? Posso fare Calabria? Sì, posso arrampicarmi ovunque Questo è fighi Parkour? Ok Prendi lo shield grosso E una pistola bella Ok, aspetta, aspetta Dove siete? Dove siete adesso? Venite C'è una granata, bello Possiamo esplodere, aspetta Aspetta, c'è un tipo laggiù No, non ci arriva la granata laggiù Ci provo lo stesso, vai Ho tirato la granata È esplosa a mezz'aria Non era proprio questo quello che volevo fare Volevo fare Bagdad Simulator Ma non è andata molto bene Attenta, Rosita Io che armi ho? Ah, ok Queste qui sono le mie armi disponibili Salve Eeeh Oh, ma Ma quanti siete? Ma è un party? No, 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 no No, io qua, io qua, io qua ci muo Ma, ma che è? Oh, ma è un party qua Salve Per favore Vada No, 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 no Piano 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 Madonna Aspetta, aspetta 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 Guardalo lì Crepaci Ok Ciao Ok Non so neanch'io come Ma sono morti E ho finito tutti i colpi Quindi sono morti Precisi, precisi Aspetta, è vero Voglio buildare Dov'è? Posso Posso scalare i muri? Sì Vai, 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 vai Builda, builda, builda Il building è la mia No, ho finito i materiali Adesso non posso Né scendere né salire Né scendere né salire Come faccio adesso? Perfetto L'unica cosa che non devo fare L'ho fatta No, no, no Ragazzi Ho uno sputo di vita Non ho cure Neanche, vero? Cos'è sta roba qua? Defibrillatore Perché è un defibrillatore Ma non mi serve a niente Mi rianimo da solo Non andrei in safe io? Non so neanche dove so C'è un tipo No Non mi avrai Builda, builda, builda Eh, no, niente Vado a fare ancora un'ultima partita Sempre in battle bot Ma stavolta vado a mettere come difficoltà Hard Perché voglio proprio la partita difficilissima 2000 years later Sì, ma voi partite sempre alla velocità della luce Non è giusta questa cosa Vai Corri velocissimo Andiamo a Lande Va bene Nella vecchia fattoria Andiamo a Lande Letali Che sta succedendo? Ok Siamo atterrati direttamente Sopra i contadini Salve Se siamo arrivati Il contadino sardo Adesso viene Ci dà una schioppettata In testa Era laggiù il contadino sardo La foresta dei cazzi volanti Nanno Ok, abbiamo un'arma Abbiamo un SMG Spera, spera, spera No, no Devi prendere Builda, builda Non posso buildare Come si prende l'arma Ok No, no Devo ricaricare Ok, ho caricato i conti Ciao Sì, sì Mi hanno stuprato Ma mi hanno Sì, ma mi hanno devastato di brutto Questi Non vale Crepa Io Io ci ho provato E i contadini sardi Mi hanno fatto così E sono venuti lì Mi hanno scioppettato in testa E mi hanno fatto fuori Andiamo qui Nel campo rom Via Via dai rom Andiamo Sì Ok, siamo atterrati Dopo sopra il camion Io neanche sono sceso Già mi sparano Madonna santa Sti rom Come sono aggressivi Sono qua per fare amicizia io Non per picchiarmi Allegramente Andatevene Andatevene Non compro niente Non compro niente Io vi ho detto già Quella è un pompa Che potrebbe essermi utile Muori Ok, è uno andato No, ho finito i colpi Ho finito i colpi Ho finito i colpi Figlia il coltello Ma sono 200 milioni Aspetta Sono 27 miliardi Vai Matrix Corri Corri come il vento Vai Seminali Scappa Sca E no niente Sì ma com'è che questi qui Sono i 77 E io sono da solo Capito Solo deve essere io Contro altra gente Non è tipo il meme Della ragazza in mezzo E i neri Dorno al divano No Perché così diventa una gang Avete presente tipo le tribù indiane Che si facevano le cose così Prima di andare in guerra I soldati Mi sono immedesimato anche troppo E quindi signori Anche per quest'oggi È tutto Spero che appunto questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Vi invito ovviamente A lasciare un bel pollice Nessù Qua sotto Per farmelo sapere Perché a raggiungimento di 600 Mi piace Andrò a fare un nuovo video Sempre con il visore VR Quindi fatemi sapere qua sotto Nei commenti Cosa vorreste vedere appunto Con il VR E soprattutto signori Se ancora non siete iscritti al canale Non volete perdermi Nessun nuovo video Potete ovviamente iscrivervi E attivare la campanella E le notifiche Per non perdervi nessun Nuovissimo video Vi ricordo che siccome È speciale per i 20.000 iscritti Vi piacesse appunto L'idea che vi ho detto Ovvero di fare lo speciale Raduno su Amigol Dove io andrò a cercare voi Facendo cose strane Quindi sarà una cosa Molto divertente E soprattutto potrete apparire All'interno di un mio video Quindi fatemi sapere qua sotto Nei commenti Se ci stareste E mi raccomando Anche venitemi a seguire Tutti quanti i miei altri Vari social network Ovvero Instagram Telegram e Discord Detto questo signori Come sempre Non aggiungerei nient'altro E noi ci picchiamo Come al solito Ad un prossimo video Ciao ragazzi